Ciao a tutti, io sono Pop e interpreto Massimiliano Colon, no, è il contrario forse, sì, nel senso che io ho il piacere e onore di essere stato riconfermato dopo dieci anni di infernali passati in giro con l'Italia, non scherzo, il personaggio mio, il personaggio che sono posseduto dal personaggio che è molto molto simile a me, Pop chi è? Pop è un ex bibliotecario, un portatore sano di conoscenza, è uno che ha setato di sapere e porta con sé questa sua passione a qualsiasi costo, costretto a diventare ribelle, a lottare, a passare dall'altra parte per portare avanti questo messaggio di ottimismo e fiducia, lui è ben felice di incontrare durante il percorso, durante la storia l'eletto e la sua compagna, intravedendo in lui questa potenzialità, gli concede il suo grande segreto che è la conoscenza delle prime quattro strofe di Bohemian Rhapsody che illumineranno la mente del nostro eletto Galileo. Quindi in questa atmosfera il Pop è molto lotta ogni giorno per essere di buon umore, positivo, ottimista e fiducioso proprio come me. Rock and roll e viva la fiducia, viva l'ottimismo, è un vecchio saggio ovviamente, io sono Giovanni, ma è uguale.